In questo tutorial considereremo le differenze tra banche dati e motori di ricerca e vedremo che cos'è un riferimento bibliografico. Un motore di ricerca è un programma che ci permette di ricercare ed estrarre dati e informazioni presenti nel web rispondendo a un nostro quesito. Il motore di ricerca più noto è Google, ma ne esistono anche altri. Una banca dati bibliografica è un archivio elettronico di riferimenti bibliografici, ordinati in modo da consentirne l'interrogazione e il recupero. Questo vuol dire che all'interno di una banca dati possiamo lanciare delle ricerche e recuperare dei riferimenti bibliografici. Vediamo allora che cos'è un riferimento bibliografico. È l'insieme delle informazioni necessarie per individuare e recuperare un documento, ad esempio per un articolo, il titolo, gli autori, la rivista su cui è pubblicato, l'anno di pubblicazione e così via. In una banca dati ogni riferimento bibliografico costituisce un record, a sua volta composto di campi. I campi sono contrassegnati da etichette che descrivono la natura del dato, ad esempio il titolo e l'abstract, che è una sintesi del contenuto dell'articolo. Sono molte le banche dati biomediche a cui potete accedere come utenti dell'Università degli Studi di Milano, non solo PubMed. Vediamo quindi quali sono le principali differenze tra banche dati e motori di ricerca. Una banca dati bibliografica contiene riferimenti bibliografici a pubblicazioni scientifiche, come articoli su periodici o capitoli di libri. Un motore di ricerca dà accesso a materiali eterogenei pubblicati su siti web. In una banca dati bibliografica il contenuto è selezionato da commissioni di esperti secondo dei criteri dichiarati. Nel web non esiste nessuna selezione a monte. Sarete voi a dover valutare criticamente i risultati caso per caso. La banca dati bibliografica offre degli strumenti per affinare la ricerca, che verrà fatta quindi nel linguaggio della banca dati. Le ricerche in un motore di ricerca si fanno nel linguaggio naturale. Una banca dati è continuamente aggiornata. L'aggiornamento di un motore di ricerca è vario ed eterogeneo. La banca dati vi porta a dei risultati stabili. Potete anche salvare e riprodurre le vostre ricerche in momenti successivi. Un motore di ricerca produce dei risultati instabili, che vengono estratti anche secondo delle logiche commerciali. Proviamo a vedere queste differenze in azione con un esempio. Definiamo prima di tutto il quesito. Dobbiamo fare una ricerca sulla balbuzie. Solo sulla balbuzie? Questo è un quesito di base. Proviamo a specificarlo meglio. Che aspetto ci interessa? Per esempio, la terapia. Per quale tipologia di pazienti? Per esempio, solo per gli adulti. Definiamo anche il nostro scopo. Se dobbiamo scrivere la tesi, ci serviranno articoli pubblicati su riviste scientifiche negli ultimi cinque anni. E dunque, cercheremo la terapia della balbuzie nel paziente adulto all'interno di una banca dati biomedica. Scegliamo di lanciare la nostra ricerca in PubMed, con gli strumenti che la banca dati ci offre. Recuperiamo un numero limitato di risultati, tutti pertinenti, risparmiando del tempo, e sono tutti riferimenti di articoli pubblicati su riviste scientifiche. La stessa ricerca fatta in Google ci restituisce un numero altissimo di risultati, quindi molto rumore. Ci rimanda anche a dei siti commerciali, inutilizzabili per una tesi di laurea. Grazie.